La grave crisi occupazionale che si registra a Gela, soprattutto in merito alla vicenda della Fineria Eni, è stata al centro del convegno promosso dalla Diocesi di Piazza Almerina tramite l'Osservatorio Pastorale, focus sulla disoccupazione di Lagante e sui metodi per arginarla. Tra questi c'è quella del microcredito. Lo strumento di microcredito aiuta giovani o imprese che non hanno la natura dell'assolvibilità e quindi che in teoria non sarebbero finanziabili dagli intermediari finanziari che conosciamo tutti, che operano regolarmente sul mercato finanziario. Pur non essendo solvibili, attraverso la filosofia e gli strumenti di microcredito possono ottenere piccole somme che per loro possono significare la svolta, piccole somme a tassi di interesse bassissimi. Tonino Collura, esperto di pianificazione territoriale, sviluppo e fondi europei, ha sottolineato come siano importanti gli strumenti comunitari per la crescita e l'occupazione. Sono stati programmati più di 6 miliardi di investimenti in 4 anni, in campi diversi dall'innovazione alla creazione di un'occupazione, alle infrastrutture, al sistema sociale. Bisogna sapercogliere questa opportunità e tradurli in progetti che stanno in piedi. Quindi creare un contesto favorevole di fiducia, di esterna fiducia per i giovani in cui queste opportunità diventano progetti e speriamo realizzazioni. Al convegno di ieri, dal titolo Costruiamo il futuro in una città che cambia, dalla rassegnazione al progetto per una nuova economia sociale, moderato dal giornalista Domenico Russello, è intervenuto anche il vicario Foranio, Michele Mattina. Il richiamo ai microcrediti e la possibilità di accedere ai fondi europei sono diremmo strade percorribili concretamente e quindi al di là di quelle che possono essere le intenzioni, i desideri, ci sono soprattutto delle possibilità concrete da avviare per cui tante persone possono avere questa possibilità di creare una piccola impresa, di darsi da fare e costruire lavoro. C'è la necessità di creare un nuovo clima di fiducia, ma nella duplice eccezione c'è nel dare fiducia e nel meritare fiducia. In questo le istituzioni chiaramente devono necessariamente fare un passo in avanti insieme a tutta la collettività. Il dirigente scolastico Grazio Ribartolo, la cui scuola, ieri ha ospitato l'interessante convegno. La scuola come agenzia formativa ha il compito di educare i giovani e di contribuire allo sviluppo del territorio, in particolare della nostra città. In questo periodo di crisi è molto importante questo convegno, questo confronto fra le varie parti e perché si possa aiutare la città a svilupparsi e quindi a creare posti di lavoro.